Musica Proseguono a ritmo serrato i lavori per il completamento del parco urbano in corso Principe Amedeo. Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Selvalli ha annunciato che durante le festività natalizie ci sarà una sorta di open day nel corso del quale saranno illustrati ai cittadini gli interventi in atto. Se tutto andrà per il verso giusto è prevista anche l'apertura di almeno una parte del parco urbano ed in particolare della zona più a sud. Quello che nascerà in corso Principe Amedeo, a due passi dal centro storico, sarà un polmone verde nel cuore della città con servizi, spazi pubblici, parco giochi, due piccoli anfiteatri per manifestazioni e uno spazio anche per skateboarder. Ho condiviso con la parte tecnica e con l'impresa l'idea che prima di Natale, siccome ormai i lavori per i due terzi del parco urbano sono praticamente completati, di aprire una parte rilevante, la stragrande parte del parco urbano, quindi renderlo fruibile alla città prima di Natale in modo che i cittadini e i visitatori si possano rendere conto dello straordinario lavoro che è stato fatto lì e poi completare l'anno prossimo la parte rimanente. Questo per innanzitutto, diciamo così, nel periodo natalizio verranno come sempre accade, è sempre accaduto tante persone anche da fuori e quindi avranno un nuovo attrattore per poter vedere il processo di cambiamento che è stato fatto in quella parte della città.